C'è qualcosa che non ti fanno Ma fanno in verticale che è così No, per YouTube devi farne in orizzontale Ma che car, ma l'ha fatta qualcuno? No, là, sì, per farvi vedere Maglietta Si, siamo presi tutte e due a maglietta Aspetta, ok No, ok, ok Non si metteva a fuoco Provatelo Provatelo E a me sembra di aver zanzare dappertutto Tino della città Con che arma c'è nessuno che ti corre dietro? No, oddio Tanto, devi aspettare qua Ecco, bello Più dal resto Sembri Molto figo Oddio Non riesco più Non riesco più È un perduto là indietro Oh, i faretti Ah, mi sa che ero finito Avevo fatto Oh, ho preso una persona Gli cancelleremo la faccia Grazie a tutti